E' sempre stata una festa, scusami, anche i consumisti. Si è perso, forse negli anni passati lo era forse qualcosa, ma sono anni che è una festa consumistica al lavoro, purtroppo. A casa, da sola, perché lavorare è mica per altro. C'è chi ci crede, c'è chi invece dice passiamo un giorno come gli altri, quindi ognuno ha la sua opinione. In casa, con mio marito, sì, sì, senz'altro. Ci facciamo regali utili, ma non legati a... va bene, forse magari per i ragazzi giovani, cuoricini, così, ma alla mia età no. San Valentino lo passeremo a cena con le nostre consorti. Secondo me no, anche perché poi quando il tutto si riduce magari a un mazzo di fiori e a un piccolo pensiero, credo che sia sufficiente. No, per me no, nel mio caso non eccessivamente. Successivamente. A casa? A casa? Con la gasta. Sì, abbastanza. Sì. Il primo anno aveva festeggiato con i regali, con tutto quanto, così dal secondo anno in poi. Un giorno come un altro. In casa con mia moglie, sicuramente. Da molto tempo. È diventato un business. Beh, tutto. 100%. Per me adesso è a livello economico e basta. La casa mia è tutte e due. Passerò la festa a casa con il mio amoroso, la nonna e il cugino. Quanto ci credo. L'amore è la vita. Senza l'amore non c'è nulla, secondo me. L'amore per i genitori, per i fratelli, per gli emensi. La festa consumistica. La festa consumistica.